Cari spettatori, è un momento importantissimo per il San Costanzo Show, perché in questo momento, Jeffrey, che succede? Ah, succede che per la prima volta assoluta, in diretta... Venduti! Eh, cioè, l'approvazione del titolo del prossimo spettacolo, la cui prima sarà... La prima mondiale, sarà al Teatro Argentina di Roma, ah no, aspetta, no... Della Concordia di San Costanzo, il 12 febbraio 2016. Vieni qua, vieni qua, con Oscar, che sarà anche il nostro regista, abbiamo tanto pensato, ma tutti quanti insieme abbiamo pensato e visto che quest'anno... Cosa accade quest'anno, Jeffrey? Quest'anno del 2016 sono 200... Ci soglie un'opera in Francia! D'estate, ma a febbraio, 200 anni dalla prima del barbiere di Siviglia... Al Teatro di Torre Argentina, a Roma il 20 febbraio del 1816. Torre Argentina! Torre Argentina! Teatro Argentina! È in piazza di Torre Argentina, però... Andate a lavorare! E allora... Votiamo! Che fa il San Costanzo Show? Il barbiere di Siviglia nel 1816, il 20 febbraio e il 12 febbraio a San Costanzo in prima mondiale... 2016... Scena la parrucchiera di Siviglia! Che schifo! Votiamo! Non mi piace! Delinquenti! Basta! Finiamo! È ora di finirla! Basta! Votiamo all'unanimità o meno, vediamo chi vota per la parrucchiera di Siviglia! Ricateci Martufello! Allora... Votiamo tutti insieme! Pronto, senti? Chi vota per la parrucchiera? Via! Uno! Siamo i sei, eh! Uno, due! Io voto per la parrucchiera! Oscar per la parrucchiera! Ci abbiamo... Gira, gira, gira! L'opposizione! 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 Sì, febbraio e tutta la tournée, invernale, febbraio e marzo del Sancto Show, estiva, sarà... Il viaggio nel tempo! La parrucchiera di Siviglia! Vi aspettiamo! Dal 12 febbraio in tutti... Io non ci vengo, non ci ho perso, manca morito un chioppo!